Un primo maggio per celebrare i 75 anni della Costituzione. È quello che accadrà a Piacenza e Monticelli. Nello specifico, nella città capoluogo, si partirà alle 8.30 con l'omaggio al monumento ai caduti sul lavoro, a cui seguirà alle 9.30 in piazzale Genova la formazione del corteo e la sfilata con i cittadini, le istituzioni e la banda Ponchielli lungo corso Vittorio Emanuele. Alle 10.30 in piazza Cavalli, infine, i tre sindacati organizzano l'iniziativa Parole, Musica e Pensieri sul lavoro. Con la partecipazione di Annmilar, Cighei e coordinamento donne. A Monticelli, invece, la celebrazione parte alle 9.30. Alle 11, nel giardino del municipio, è in programma l'allocuzione di Federico Ghillani, segretario generale FNP CISL Parma e Piacenza. La carta costituzionale non va onorata solo perché compie 75 anni, ma va onorata quotidianamente. L'abbiamo visto che negli ultimi anni è stata un po' bistrattata. È una carta costituzionale che mette la persona al centro, che si fonda su tre principi fondamentali, che sono la libertà, il rispetto e l'uguaglianza sociale. E se pensiamo a questi tre cardini fondamentali, riteniamo che, partendo dal mercato del lavoro, di tutto quello che la persona sta soffrendo in questo momento nel mercato del lavoro, parlo di precarietà, parlo della differenza tra uomo e donna, parlo anche dei livelli di disoccupazione o comunque di difficoltà per i giovani a pensare una prospettiva al lavoro che possa garantire a famiglia un futuro migliore, riteniamo che proprio sia fondamentale parlare di carta costituzionale.